RESTATE CONCENTRATI Manca poco tempo E' qualcuno lì Minchia I tre secondi Porca troia Stava per scadere il tempo Fare una roba stealth Ho bisogno di te Ecco fatto i problemi passati Possiamo Porca putegne Che squaglio Mi è arrivato Un coso Uno scheletro suicida addosso Minchia che squaglio mi ha tirato Non me lo sono aspettato Vaffanculo Ah minchia Se siete rimasti ancora qua dall'ultima volta Io non so ragazzi ma In questo gioco Gli zombie e le porte Non vanno Proprio d'accordo Da giù per favore Cortesia Oh allora Signori forse ci siamo Non ci credo Non ci credo Non ci credo Prendo le chiavi Ho vinto all'ultimo Con un personaggio che ho fatto schifo in tutto il tempo della partita Ho fatto ragazzi 1066 anni Per missioni Per missioni Vedo il dritto Ok Ok Questa Ma lo vedi anche tu ho buggato così Sì Benissimo Non si muove Dove cazzo sta andando Ma guardalo Vabbè L'ho buttato a terra Perché lo metto in langognino Perché è un cretino Caputana Noo Annaggia Cazzo Ho visto Tipo Che via E col cazzo Ecco là Oddio santo Eccolo lì Ma riesce a spostarsi Signore guardi Io sono Riesci a muoverti O Perché stai facendo un corsino Secondo me si è fermato Perché ha capito che non riusciva ad entrare Piuttosto che fare una figura di merda Rimane lì Incazzato proprio Della serie Io Io non c'ho Vedi che non c'ho gli occhi Proprio meno Sono gli occhi bianchi Quindi sono cieco Quindi è come se non ti vedessi Però io in realtà dovrei passare Quindi Ciao Mary Poppins È un bel pericolo Se non lo fermo subito Questo mincula Questo mincula Ah Mask c'è un problema C'è C'è Immaginate uno scorpione gigante Che sta in castigo Lo vedi in live Vabbè sti cazzi Poni fine alle sue sofferenze Già fatto No Ma allora come No per favore Non si Non twercare Né col culo né con la testa Ferma così Ecco Ma porca troia Bellamente il mondo Black 2 baby No Vabbè 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 Ragazzi mi state aspettando tutti qui a vicino Sì Guarda però che c'è dei figli di puttana Eh però Dei figli di puttana Con tutte le tre Corone Naturalmente Vai vai dimmi Dimmi che Superman porco dio Mazzano E pazzisco Vabbè 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 Questi zumbi però hanno qualcosa che non va. Nel camion è sospeso in aria. No, non è sospeso in aria, però. Sospeso in aria. Oh, cazzo, è veramente sospeso in aria. Agenti. Aiuto. Questo camion sta violando le leggi della fisica. Vabbè, interagisco con questo. Ecco, sì, un bel cinque. Il camion è stavolato. Quindi questo è uno zombie porta. Minchia, ma fa proprio paura. Ma sarà... Immortale? Ah, ok, no. È un normale zombie. Peccato, però avrei voluto vedere uno zombie porta. È tempo per la sedia, ragazzi. Cartoni giro. Ecco. Grazie a tutti